Nome. Massimo. Martina. Corso di laurea. CMP. CMP. Tre pregi. Sono una buona forchetta, sono piuttosto solare e ho gli occhi verdi. Mi appassiono facilmente, rido spesso e amo riflettere. Tre difetti. Ritalitario alla mattina, confondo i nomi delle persone e odio il lavoro di gruppo. Sono estremamente permaloso, sono sempre in ritardo e amo amministrare bene le finanze. Il tuo cavallo di battaglia. Combattere, esplorare, trovare e mai arrendersi. Finché c'è vita c'è speranza. Amici di Only You. Ciao a tutti e ben ritrovati. Ritrovati, ci dobbiamo ancora presentare. Eh sì è vero allora iniziamo. Chi sei? Io sono Martina. Io sono Massimo e insieme vi terremo compagnia da venerdì 4 marzo. Cioè domani. A brevissimo. Poche ore per incontrarci, per sentirci. Dove ci sentono? Ma nel caffè letterario, nello smart bar. Dove volete mentre mangiate così. Eccoci, ritrovate qui. Ma perché ci devono ascoltare? Perché noi siamo Radio Yulm. E questa cos'è? È Only Yulm.